Ma sì, non c'è male, sto in fase di un po' di scrittura, brainstorming. 41 ormai, sì, si va per gli enta, gli inta, come si dice? No, non mi piace il prosciutto. Perché mi fai queste domande sul prosciutto? Non mi... Tifo Inter, però adesso sto cambiando, sto passando alla Juve, perché è arrivato Ronaldo, quindi sono un po'... L'Inter poi mi ha stufato, sono vent'anni che tifo Inter, basta, cambiamo squadra.